Dio boh ragazzi, a me come stanno sui maroni queste partite qui così, perché l'Atalanta è puntualmente quella squadra dove, cazzo per assurdo no, considerando poi quello che è il gioco d'allegri, tutti dietro e pregare solitamente, mentre invece succede sempre che con l'Atalanta fai sempre delle partite ottime dove probabilmente meriteresti di più rispetto a ciò che poi è effettivamente l'esito finale, ma puntualmente o per un tuo errore o per Malinowski che quando ti vede è come i Cardi, vi ricordate i Cardi contro la Juve che fosse alla Sampdoria, che fosse all'Inter? Nel dubbio tu sapevi che quando facevi una partita contro i Cardi partivi dal meno uno, partivi dall'handicap, te per vincere dovevi mettere in conto di farne almeno due, Malinowski con noi puntuale, preciso, sempre, è una garanzia Malinowski con la Juventus che dici cazzo non parte neanche titolare, sta buon, poi puntualmente entra appena tocca un pallone, arrivano in quattro, punizione, battuta di seconda, una mina sotto l'incrocio che dici vabbè, deve andare così, per l'ennesima volta nonostante una bella Juve, eccola lì, bella che è servita l'inculata e adesso a un quarto d'ora dalla fine va a capire, solo che per fortuna ci hai creduto al novantesimo in un modo anche insperato perché più che altro non segni su calcio d'angolo dal 15-18, oggi avevi proprio la sensazione che fosse quella partita che neanche giocando fino alle tre di notte l'avresti buttata dentro, neanche con quelli dell'Atalanta sotto alla doccia, si è andato ad acciuffarlo in un modo, guarda, che onestamente fa godere per il minutaggio a cui è arrivato poi con Danilo e a me quando segna Danilo piace sempre perché proprio mi gasa come giocatore, sono contentissimo quando Danilone la butta dentro in particolar modo poi in momenti decisivi. La cosa che mi fa girare i maroni è che tu oggi l'avevi anche proprio impostata benissimo, giocassi sempre così la Juventus con questa voglia anche creando come è creato oggi contro squadre, poi come l'Atalanta soprattutto è quello, il valore aggiunto, solo che puntualmente la cosa che mi fa tremendamente erodere i maroni non è tanto che hanno bisogno del tiro della domenica per andarla a vincere, o ce la devo buttare nel culo sostanzialmente, anche perché se ci si pensa loro poi avevano la possibilità di andare sul 2-0 con Atebor e lì chiudevi Baracca e Buratini, però poi il karma si è reso conto del fatto che Atebor in quella zona non ci doveva neanche essere perché sotto la doccia dava un'oretta bella che abbondante e quindi si è andata a acciuffarla, ma appunto il discorso è che bene o male nel calcio non c'è niente da fare, te la devi buttare dentro, ok con l'atteggiamento giusto, ok creando tanto, ok giocando bene perché oggi la Juventus non penso abbia giocato male, però non c'è niente da fare nel momento in cui tu hai diverse occasioni a maggior ragione, poi quando giochi contro squadre come l'Atalanta che hanno sempre quella capacità offensiva, che da un momento all'altro ti possono far gol da dentro l'aria con delle bombe dalla distanza come Malinowski, tu quando hai la possibilità la devi buttare dentro e Di Bala se lo ciuccia e Vlaovic in diverse circostanze oggi poteva fare decisamente di meglio, una su tutte dove poi gli era stato fischiato il fuorigioco dove aveva fatto la chiusura di Miral, dove rivedendo il replay non so quanto effettivamente fosse in fuorigioco Di Balaovic, mentre invece nel momento in cui la palla va in angolo ti fisca il fuorigioco tanti saluti, intanto te butta là dentro, poi riguardano se fuorigioco ti tira il culo ma onestamente mi tiro il culo uguale a maggior ragione poi vedendo il replay, ma purtroppo il calcio è così, penso ci sia veramente ben poco da dire e da fare, tu puoi giocare bene quanto vuoi, creare quanto vuoi, non meritare in un senso o nell'altro il risultato quanto vuoi, però se non la butti dentro non la butti dentro, per fortuna l'hai buttata dentro al novantesimo, l'hai andata a pareggiare e ti viene da dire quasi quel va bene così, al novantesimo anzi al novantaduesimo se non sbaglio è sempre meglio il pareggio della sconfitta, è comunque un punto in più e soprattutto sono due punti in meno all'Atalanta che fino a prova contraria ti rimane sotto con una partita in meno, ma ti è comunque sotto anche perché non so bene quando si recupererà la partita contro il Torino, però mi tira il culo lo stesso, cioè direi veramente una grande bugia perché oggi tu hai fatto di tutto anche e probabilmente te la meritavi anche una vittoria, però purtroppo ci avete da fare, è così, crei quanto vuoi, giochi bene quanto vuoi, fai tutto quello che devi fare perché probabilmente l'hai fatto, ma le occasioni che hai contro queste squadre le devi saper sfruttare perché altrimenti purtroppo si parla di nulla, ecco, ed è questa la cosa assurda, è che di solito per esempio dopo i pareggi contro l'Udinese, contro il Venezia, così mi incassavo ovviamente per l'atteggiamento che hai avuto, o magari perché non tiravi in porta neanche per sbaglio. Sto giro probabilmente hai fatto tutto quello che dovevi fare, anche il famigerato tridente richiesto dai tifosi Morata, Vlaovic, Di Bala, che da un certo punto di vista ha funzionato a livello di creazione, di pericolosità, ma lì sotto devi essere incisivo, tanto purtroppo bene o male il discorso è quello lì, lì devi avere veramente il sangue agli occhi, tirare fuori quel qualcosa in più che il pallone te lo fa buttare dentro, ma va bene anche su calcio d'angolo come arrivato al novantesimo, è magari da iniziare diverse volte a buttarla dentro anche dal calcio d'angolo, considerando che pare ai degli schemi anche potenzialmente validi, ma poi puntualmente l'unico gol che puoi fare è d'angolo, e se Quadrado te la butta dentro dal calcio d'angolo. E poi vabbè, per il resto niente, in ottica Champions League sicuramente il pareggio non va bene, perché non va bene, dovevi vincere così a prescindere dal recupero di Atalanta a Torino, Torino-Atalanta, quello che loro erano sotto e tutto dipendeva da te, adesso se loro dovessero vincere quella partita lì tu torneresti sotto e devi riniziare a sperare in qualche passo falso dell'Atalanta, che ok, che reduce ultimamente da qualche passo falso, però sai, l'Atalanta comunque non è una squadra che te ne fa infiniti, ecco, e soprattutto non ne devi fare te, che purtroppo ancora è quello che mi preme un pochino di più della Juventus, non sono tanto le altre, è la Juventus stessa che ancora purtroppo non mi dà la sensazione di essere in grado di inanellare una serie consecutiva di vittorie, perché a questo punto è di questo che si parla neanche più magari di pareggi che van bene, adesso i pareggi non so quanto vadano bene, che tra l'altro con il pareggio di oggi hai sancito per l'ennesima volta che tu quest'anno gli scontri diretti li vinci la prossima volta, ti è rimasta giusto una possibilità contro l'Inter in casa che sulla carta è fattibile, anche perché è una partita che si deve giocare, quindi è fattibile a priori, però boh, sta a te, quest'anno sembri la Roma dell'anno scorso che nel dubbio gli scontri diretti non ne vinceva neanche mezzo, per l'ennesima volta l'hai ribadito e probabilmente contro l'Atalanta tutte e due le volte l'hai ribadito in maniera immeritata, però se loro la buttano dentro e te no, o al massimo come loro, purtroppo poi il risultato parla chiaro, da lì non se ne esce. Detto questo ragazzuoli, nulla, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!